Vantaggio del Sassuolo, vantaggio del Sassuolo stavolta è buono, lo diamo per buono, il gol di Scamacca, minuto 18 del primo tempo, Genoa 0, Sassuolo 1, ma c'è un caso analogo direi a quello di Lazio Inter di ieri, con un giocatore del Genoa ancora a terra, si tratta di Pandev, qualcuno che si lamenta, gol che comunque convalidiamo noi, al minuto 18 ha sbloccato la partita Scamacca, Vini a chi stava parlando? Il raddoppio del Sassuolo, minuto 20 ancora una volta Scamacca, Genoa 0, Sassuolo 2, doppietta dell'ex, Luca Scamacca a te, gol del Genoa con Mattia destro di testa a prendere in controtempo il portiere del Sassuolo, Consigli, cross dalla sinistra di Fares, minuto 27 l'incornata che fa cambiare di nuovo il risultato al Ferraris, Genoa 1, Sassuolo 2, Cremona Il pareggio del Genoa, il pareggio del Genoa, scusa, Basquets, deviazione da corner, proprio al novantesimo, palla schiacciata alle spalle di Consigli, cambia il risultato proprio all'ultimo minuto, al novantesimo di questa convulsa partita a Genova, Genoa 2, Sassuolo 2, il polpo di testa vincente da calcio d'angolo, torniamo a Parma Vincente da calcio d'angolo, torniamo a Parma